il libro che sto per raccontarvi è senz'altro un classico la storia di elsa morante ma prima di raccontarvelo vale la pena stare qui un secondo a domandarci che cos'è un classico a me non so a voi succede una cosa quando sento la parola classico vengono in mente due tipologie di libri il primo è una sorta di reperto archeologico non avete presente i vasi le anfore o anche le ossa nelle persone delle epoche andate quando un archeologo sta lì scava 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 trova questo elemento dell'umanità passata e studiandolo per bene con tante competenze allenate lungo gli anni sa ricostruire attorno a questo oggetto l'epoca da cui proviene come se fosse un micro racconto è un testimone dell'epoca in cui è nato sono quelli che chiamiamo classici intendendoli come reperti archeologici normalmente sono libri vecchi quindi che parlano di epoche che non sono la nostra diverso è quando diciamo classico intendiamo invece bei libri che fanno una cosa molto particolare prima di averli letti noi pensiamo in un modo e dopo averli letti pensiamo in un altro la posso riassumere così sono libri che sono come una mano che ti prendono il cervello per un secondo te lo fanno girare anche di mezzo grado di qualche millimetro e però quel micro giro la frazione infinitesimale di giro che fa il nostro cervello rende il nostro sguardo diverso da prima se dovessi dire che cos'è Elsa Morante la storia di Elsa Morante per me è un libro un classico in tutti e due i sensi cioè racconta precisamente un'epoca storica testimonia l'epoca da cui proviene ma lo fa in maniera immortale nella misura in cui si slega con la sua forza dall'epoca da cui proviene e diventa una storia che potremmo leggere oggi dopo domani tra 5 mila anni e avere comunque qualcosa dentro quella storia che parla di noi del presente o appunto del futuro prossimo e direi che questa è la premessa per me Elsa Morante è sia un reperto di un'epoca storica sia un libro che quando un quello si voglia leggere dopo non sarà uguale guardare il mondo e prima di parlarci forse conviene leggere l'inizio e sentire un po come suona questa storia per capire che cosa raccontare come è fatto eccolo qua un giorno di gennaio dell'anno 1941 un soldato tedesco di passaggio godendo di un pomeriggio di libertà si trova solo a girovagare nel quartiere di san lorenzo a roma erano circa le due del dopo pranzo e a quell'ora come duso poca gente circolava per le strade nessuno dei passanti poi guardava il soldato perché i tedeschi pure se camerati degli italiani nella corrente guerra mondiale non erano popolari in certe periferie proletarie né il soldato si distingueva dagli altri della sua serie alto biondino col solito portamento di fanatismo disciplinare e specie nella posizione del berretto una conforme dichiarazione provocatoria naturalmente per chi si mettesse a osservarlo non gli mancava qualche nota caratteristica per esempio in contrasto con la sua andatura marziale aveva uno sguardo disperato la sua faccia si denunciava incredibilmente immatura mentre la sua statura doveva misurare metri 1,85 più o meno e l'uniforme cosa davvero buffa per un militare della reich specie in quei primi tempi della guerra benché di nuova fattura e bene attillata sul suo corpo magro gli stava corta di vita e di maniche lasciando di nudi i polsi rozzi grossi e ingenui da contadinello o da plebeo inizia così la storia nel 1941 naturalmente stiamo parlando di un periodo particolare del novecento della nostra storia della nostra civiltà occidentale cioè sono gli anni della seconda guerra mondiale e il tono l'avete sentito è quello di una pacata ritmata dolce in qualche misura anche umoristica cronistoria si potrebbe riassumere così infatti il romanzo di Elsa Morante è il racconto la cronistoria di tutti i fatti o meglio gli antefatti che precedono un evento molto molto drammatico che accade nel 1947 cioè quando una madre che si chiama Ida che è la protagonista del romanzo e suo figlio uno dei suoi figli Giuseppe finiscono male diciamo così non voglio rovinarvi il finale se non l'avete mai letto e i capitoli che precedono questo 1947 che chiude il libro quindi questo libro bello grosso come vedete sono il racconto di quegli antefatti e la capacità di mettere in fila gli eventi che hanno preceduto in qualche modo determinato e causato quel fatto brutto se invece dovessi riassumerla in un altro modo direi che la storia è il romanzo di Elsa Morante è una storia di traslochi e di fame nel senso che partiamo così siamo in un quartiere di roma molto preciso san lorenzo che è un quartiere come avete sentito proletario e tutto il romanzo non è altro che il traslocare di Ida e dei figli in altri posti di roma per reagire a quello che sta accadendo nel mondo attorno a loro ha a che fare naturalmente con la scena che abbiamo appena letto e quindi conviene stare un pochino su questa scena perché questo soldato gunter un giovanotto diciamo arrivato dalla germania come tutte le truppe tedesche che in quel momento fanno parte dell'alleanza con mussolini e quindi tra nazismo e fascismo vagola per roma ed è un po sperduto anzi di più è ubriaco nel senso che succede questo forse soffre un po di nostalgia di casa forse appunto è talmente immaturo da non riuscire a questa prima avventura lontano da casa e vaga per le vie di san lorenzo mezzo punto ubriaco e finché a un certo punto il suo sguardo non nota una donna è una donna non più tanto giovane che appunto si chiama Ida e ha una caratteristica speciale nel suo andare quel giorno per san lorenzo è carica di buste della spesa di sport come si diceva allora non sono non immaginatevi di andare alla spesa del supermercato oggi perché gli anni sono quelli della guerra e sarà sempre più drammatico lo dicevo sarà un romanzo fatto di fame trovare di che da mangiare Ida e quindi a queste sport e sta tornando verso casa e il tedesco a un certo punto sembra fare un atto quasi di cortesia verso una donna più grande di lui cioè cerca o richiede se può aiutarla a portarle a aiutarla a trasportare fino a casa a queste sport pesanti naturalmente c'è dell'altro invece nell'intenzione di quest'uomo e ossia spegnere la lontananza il malumore la malinconia e forse anche l'ebbrezza della sua sbronza abusando di Ida bisogna dirlo subito perché è un romanzo drammatico dove gli eventi sono drammatici ma sempre raccontati con la lingua un po anche leggera e cronachistica che avete sentito prima la storia cioè questa scena finisce nel modo che ci può aspettare cioè Ida terrorizzata piano piano non riesce a scacciare questo Gunther che l'accompagna fino al piccolo appartamento in cima delle rampe di scale dove Ida abita e in un secondo si consuma l'abuso di lei quando Gunther se ne va Ida si prende un momento perché è possiamo dire atterrita ma anche mortificata da una paura una è la paura naturalmente di una donna che ha subito quello che vi ho appena raccontato l'altra è una paura molto molto più specifica che ha a che fare con il contesto storico che stiamo raccontando cioè Ida è una maestra elementare di origini ebraiche e a questo punto a essa morante si prende un sacco di pagine meravigliose peraltro per raccontarci lo dicevano gli antefatti che precedono i fatti brutti raccontati dalla storia ci viene raccontato che Ida appunto è nata in calabria di origini calabresi un po' come anche la famiglia degli Elsa morante ed è arrivata a roma nascondendo le sue origini ebraiche ed è una paura molto particolare ed è una reazione molto particolare che va contestualizzata nella paura cioè il fatto di nascere per chi nasceva in quegli anni con una colpa o con una macchia di cui non hai nessuna responsabilità ma per la quale le persone alcune persone in particolare ti accusano ti minacciano o addirittura ti torturano e poi alla fine ti trasportano in un labio quindi quando c'è l'incontro con Gunther Ida vive due paure sovrapposte e raddoppiate ed è questa l'intensità della scena iniziale abbiamo un giovanotto che approfitta di una donna un po' più grande e quel giovanotto è un tedesco cioè uno che proviene dal popolo da cui provengono le leggi razziali che abusa di una donna di origini ebree da questa scena iniziale nascerà qualcosa all'interno del romanzo cioè il secondo figlio di Ida il primo si chiama Nino è un tizio molto interessante nel senso che è un ragazzone è un ragazzetto di grande vitalità cioè sono anni bui quelli della guerra ma se c'è qualcuno che può trovare qualcosa di cui ridere o di cui divertire o con quale divertirsi durante questi anni brutti è proprio Nino che ha una vitalità molto generosa ha voglia ha voglia di scoprire la vita ed è il primo figlio di Ida perché Ida è già vedova vedova mancuso e Nino è il suo primo figlio da invece l'incontro il brutto incontro con Gunther nascerà il suo secondo figlio Giuseppe che però per tutto il romanzo verrà chiamato Giuseppe e per quanto sia un figlio nato da una brutalità la nascita di quella ragazzino di Giuseppe determinarà nel romanzo una delle cose più belle di questo di questa storia che è il rapporto tra Nino e Giuseppe perché adesso ve ne leggo un altro pezzettino Ida tenta di tenere nascosta la sua gravidanza il figlio che intanto parte fa disfa non è tanto spesso a casa ma poi a un certo punto quando Giuseppe nasce non può più tenerglielo nascosto e tra i due nasce un affiatamento che è tra di quelli travolgenti all'interno del romanzo ma la cosa bella è che Nino ha questa capacità di spazzare via tutte le paure o di sciogliere con tre o quattro battute tutti i pensieri i ragionamenti le paure che si accumulano in sua madre ecco qua come parla Nino appena entrato in casa si trova davanti questo neonato che non si aspettava e dice e chi è ma chi è ripete Nino sempre più ammattito dal divertimento in una urgenza vertiginosa Ida si sentì risalire fino alla gola il famoso pretesto della parente ma questo pretesto maledetto non voleva venirle alle rabbra cioè voleva raccontargli una bugia e la sola spiegazione che le venne assurdamente in un balbettio fu è uno trovato nella strada e chi l'ha trovato richiese Nino nella prima eccitazione di un tale evento formidabile ma gli durò appena un attimo quasi non aveva ancora si può dire notato il rossore sconvolto di sua madre che già non ci credeva più il suo sguardo presto consapevole addirittura cinico trascorse dal volto infiammato di sua madre al corpo di lei quasi nella subitanea reminiscenza di un segno che al tempo giusto non aveva percepito in pratica non ha notato la gravidanza e per dieci secondi il suo pensiero si incapricciò su questa buffa idea che sua madre avesse un amante e chi se la sarà presa così vecchia si domandò incerto sarà stata opinò fra sé un'avventura di passaggio per una volta sola al suo sguardo frattanto Ida aveva già inteso che lui vedeva chiaro ma infine a lui non importava molto di sapere donde gli venisse questo regalo inaspettato quello che gli importava a lui a lui era di garantirselo per l'eternità e lasciando cadere subito nell'incuranza ogni altra ricerca si informò ansioso però adesso ce lo teniamo ce lo teniamo qua con noi sì e come si chiama lui domandò raggiante di soddisfazione Giuseppe a Peppe a Peppine a o a o si dette a esclamare lui facendo il matto sopra quell'altro mentre quell'altro da parte sua seguitava i suoi minimi scalpiti da principiante nella contentezza e gratitudine di conoscere dal giorno presente la vita ed è di questo che si parla alla fine di vita all'interno di un contesto drammatico Nino ha possiamo dire una stortura che nel romanzo poi ne determina altre come tanti giovani di allora con l'argento vivo addosso deve trovare dove sfogare questa voglia di vita di vita come avete appena sentito e il suo primo modo per sfogarla è arruolarsi diciamo o meglio partecipare a il fascismo nel senso che è una camicia nera e a un certo punto parte parte con le camicie nere ed è abbastanza semplice capire perché un ragazzo pieno di vita desideroso di scoprire la vita a un certo punto decida di arruolarsi con i fascisti perché i fascisti promettevano una sorta di paradiso ti promettevano una cartolina meravigliosa di un domani in cui avresti potuto realizzarti dove avresti potuto vivere bene godertela insomma avere le cose che desideravi e che non hai mai avuto soprattutto nei quartieri proletari o nella vita difficile di allora ed è facile credere a quella menzogna senza rendersi conto di che cosa comporta delle brutalità che l'animano cioè di quante ingiustizie o cose brutte devi fare per guadagnarti con la posizione della vita naturalmente è troppo vitale Nino per arrendersi al fatto che quello sia il suo destino tant'è che dopo essere partito verso il nord in questa prima avventura un po facendo il viaggio al contrario se ci pensate del gunter da cui nasce giuseppe torna e tornerà partigiano naturalmente sapete che cosa di cosa sono i partigiani torna si batterà con i partigiani e alla fine della guerra addirittura si ri cambierà un'altra volta la sua attitudine scoprendosi con tra bandiere è un ragazzo così che si fa affascinare dalla vita la cosa importante però per noi per insomma capire come è fatta la storia e stare un po invece su questi grandi movimenti ci sono sei anni messi in fila nel romanzo e ciascuno di questi anni come vi dicevo all'interno le spiegazioni del perché accadono certe cose e accadono in maniera vertiginosa perché il romanzo è fatto un po come un'epica cavalleresca o addirittura quella tendenza un po digressiva ad aprirsi come ce l'aveva non so l'ariosto o altri cioè fa accadere un fatto ed è un fatto che possono registrare i giornali e poi accanto a quel fatto si apre una via secondaria da intraprendere da seguire in cui perdersi talvolta prima di ritornare di nuovo al corso principale della storia e così però recuperare assommare informazioni cioè in pratica sapere perché quello che accade nel presente di questo romanzo accade la storia sostanzialmente poi si riassume come vi dicevo in traslochi e fame nel senso che i da da san lorenzo è costretta a partire a un certo punto quando le leggi razziali si fanno più brutali al 1943 e la nostra storia c'è una palla una delle pagine più tristi della nostra storia in particolare della città di roma cioè la deportazione degli ebrei nel ghetto siamo in ottobre e ida scappa scappa in una di quelle periferie costruite allora nel romanzo si chiama pietra lata dove starà con altri suoi una specie di colosseo enorme diciamo dove si radunano all'interno di sfollati diciamo così della città che si devono nascondere nascondendo le proprie origini ebraiche e da lì vivranno lei euseppe mentre nene lontano e prima che nino torni con un nome partigiano in una specie di famiglione esteso che si chiamano i mille di memoria garibaldina e da lì in poi tornerà invece verso verso roma più nel centro di roma a testaccio ospite di una famiglia con la quale provare a ricostruire diciamo questa piccola vita nel cuore pulsante di roma in questo andare da una parte e l'altra l'unico diciamo l'unica forza l'unica grande spinta all'interno del romanzo che manda avanti la narrazione lo dicevo all'inizio è una delle cose meno romanzabili di sempre o meno affascinanti di sempre ma più dolorose di sempre cioè la fame perché alla fine è una continua lotta per la sopravvivenza e la prima cosa che serve per la sopravvivenza è mettere qualcosa in tasca naturalmente qui la letteratura italiana offre e ha offerto a Elsa Morante che naturalmente è una fine lettrice di letteratura alcuni precedenti illustri uno dei quali sicuramente l'avrete studiato è Manzoni ed è per questo che vi leggo una pagina che ha a che fare con la fame e che cosa succede quando la fame diventa troppa e le persone non riescono più a tollerarla ci siamo delle esclamazioni tedesche interrotte travolte da un vocio di donne la raggiunsero una di quelle mattine mentre dopo un inutile viaggio alla cassa stipendi chiusa s'avviava all'osteria di Remo si era appena inoltrata su una traversa della Tiburtina e le voci provenivano dalla parte di via Porta Labicana a poca distanza di là nell'arrestarsi incerta quasi si scontrò con due donne che arrivavano di corsa da un'altra laterale alla sua destra una era anziana un'altra più giovane ridevano esaltate la più giovane teneva in mano le ciabatte dell'altra che correva a piedi nudi questa si reggeva per le due cocche la gonna alzata sul davanti e gonfia di una polvere bianca farina sperdendone un poco sul selciato dietro i suoi passi l'altra portava una sporta ad incerato nero anch'essa gonfia di farina all'incrociarsi con ida le gridarono corra signor faccia presto stasera se magna arripiamose la roba nostra ce la devono ridare la roba nostra sti radri zellosi la voce già si spargeva altre donne uscivano veloci dai portoni tu torna tu torna si casa ordinò ferocemente una passante lasciando la mano di un bambino e sulla traccia della farina versata tutte si imbrancarono di corsa e ida con loro non c'erano da fare che pochi metri a mezza strada fa via di porta la bicana e lo scalomerci c'era un camion tedesco fermo giù dal quale un militare della reich teneva testa sbraitando a una folla di donne del popolo evidentemente colui non osava mettere mano alla pistola che portava al cinturone per timore di venire linciato sul posto alcune delle donne con ardimento supremo della fame si erano arrappicate addirittura sul camion carico di sacchi di farina e fatti dei tagli nei sacchi se ne versavano il pieno dentro le gomme le sport e qualsiasi altro recipiente si fossero trovate a portare qualcuna se ne riempiva magari il secchio del carbone o la brocca dell'acqua un paio di secchi giacevano in terra già mezzi vuoti fra la serie una quantità di farina si era versata in terra e veniva pestata ida si fece largo disperata anch'io anch'io strillava come una bambina non riusciva a rompere l'assedio che stringeva i sacchi buttati a terra si sforzò di salire sul camion ma non ce la faceva anche a me anche a me dall'alto del camion una bella ragazza rise sopra di lei era scapigliata con sopracciglia foltissima e more i denti forti come di bestia si reggeva innanzi per le nocchie la vesticciola colma e sulle cosce scoperte fino alle mutande nere di rion splendevano di un candore straordinario come quelle delle camelie fresche ti esignò ma spicciate e accucciandosi verso ida con una risata da furia le empila sporta di farina versandogliela direttamente dal proprio grembo ida a sua volta si era messa a ridere simile a una bambinetta mentecatta cercando di risortire col suo carico di mezzo alla folla urlante le donne parevano tutte sbronze eccitate dalla farina come da un liquore urlavano inebriate contro i tedeschi gli insulti più osceniche nemmeno le puttane di un lupanare le parole meno brutali erano fraciconi culoni vigliacchi assassini ladri nel sortire di fra la folla dina si trovò in un coro di ragazzetta arrivate ultime che da parte loro strillava una grammoce saltando come un girotonto zozzoni e in quella udì la propria voce stridula irriconoscibile nel suo eccitamento infattiva gridare nel coro zozzoni è una scena meravigliosa non tanto perché come vi dicevo ricorda tanti echi di letteratura intanto l'assalto ai forni nei promessi sposi ma perché ida è una donna che per gran parte del romanzo è costretta a subire quello che sta succedendo attorno a lei subisce gunter all'inizio e per tutto il romanzo soffrendo di quella paura atavica che ha a che fare con le sue origini ebraiche e con la brutalità di quello che sta accadendo nella realtà attorno a lei subisce 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 finché a un certo punto guidata dalla fame l'avete sentito non riesce addirittura che a ridere e a rivolgere contro gli occupanti tedeschi che sono i suoi carnefici un liberatorio e rumanesco in questo caso lo dicevo che è una cronaca di quartiere zozzoni è una cosa piuttosto entusiasmante ed è una cosa che ha reso l'amorante e questo libro un classico nel senso che ha a che fare con qualcosa di noi esseri umani molto profondo cioè con la nostra animalità a che fare con quello che ci serve per riuscire a sopravvivere mentre l'habitat in cui ci muoviamo cambia i pericoli aumentano e l'unico istinto che ci guida è quello intanto di non finire uccidere quindi di proteggerci e proteggere quelli accanto a noi e di trovare di che sfamarsi su questo vale la pena di dire qualcosa prima di chiudere perché lo dicevo non serve recuperare l'epoca da cui proviene la storia però ma è utile sapere che cosa è successo quando questo romanzo vide la luce nel 1974 intanto da einaudi la casa editrice che lo pubblicò che c'è una cosa piuttosto straordinaria per l'epoca pubblico la romanzo a un prezzo molto basso 2000 lire in economica sapete nei libretti più piccoli e morbidi affinché quanta più gente possibile potesse comprarlo senza dover spendere molto perché i libri invece le novità costavano molto di più e è successo il fracasso e veramente il chiasso sollevato da questa pubblicazione è inaspettato e quasi ma non è mai successo a qualcosa di paragonabile nella storia della letteratura italiana perché perché sono anni molto decisivi la storia con la S maiuscola è un'ideologia c'è una parte del paese a sinistra che crede nel progresso e dove per la storia una forza che spinge avanti una certa certe masse diciamo di gente all'interno della società e per invece la controparte di destra è un altro tipo di ideologia ma tutti ragionano su questa storia investendo in valore in un valore positivo di avanzamento o di conservazione mentre invece il Samorante ne fa un oggetto tremendo cioè racconta perché questo romanzo aveva un sottotitolo molto esplicito una diciamo così una uno scandalo così fu definito che dura da 10.000 anni cioè la storia e le vittime che questa storia produce qualunque sia l'idea di storia politica o ideologica che la società sposa e fece scalpore perché naturalmente allora la critica letteraria tendeva a leggere i romanzi secondo le idee politiche o teoretiche cioè di teoria del romanzo qualunque cosa venisse pubblicata invece il Samorante fa una roba senza precedenti cioè è talmente forte è talmente diretto quello che scrive che salta il passaggio mediano tra i commentatori dei romanzi arriva direttamente alla gente a noi a noi lettori e questo suscitò allora grande clamore moltissimi le diedero contro. Dopodiché dopo un po' di anni fortunatamente il romanzo viene riabilitato e la gente si fece un mea culpa dicendo forse non ci abbiamo proprio visto il giusto. Di che cosa veniva accusata ed è questo che mi interessa per chiudere? Di due cose la prima appunto è di aver voluto scrivere un romanzo sulle vittime della storia e quindi di aver fatto un'operazione in qualche modo sleale di aver eletto una storia come oggetto della sua storia qualcosa che potesse facilmente far lacrimare dall'altra invece una cosa a cui io tengo moltissimo ed è per questo che lo ritengo un classico una forza patetica nel senso più letterale del termine cioè il pathos come uno dei suoi grandi diciamo amori ottocenteschi cioè Charles Dickens è la forza che gli scrittori hanno di muovere emozioni nel profondo degli esseri umani noi lettori e il fatto di riuscire a mapparla e di capire che cosa succede nella profondità di questi esseri umani con uno stile come quello di Elsa Morante cioè cronachistico mai troppo spinto su mai troppo diciamo esagerato rispetto a quello che si racconta fece clamore perché spiegava e dimostrava ai suoi contemporanei che si poteva andare nel profondo degli esseri umani e indagare qualcosa che magari non era politico ideologia ma era qualcosa di più profondo cioè l'animalità che ci che ci accomuna in quanto membri dell'umanità è una cosa piuttosto piuttosto straordinaria e ha a che fare qui con l'ultima qualità che si vede e si percepisce da molto lontano del romanzo che è il suo respiro cioè la capacità di essere molto l'avete visto lungo ma molto cadenzato molto rilassato molto come dire come se fosse un gran compagno con cui ti vuoi far accompagnare lungo un sentiero per un bel po di tempo perché sai che non correrà in avanti e non rimarrà indietro non è sempre lì con te vicino e mentre ti sta vicino ti continua a far notare delle piccole cose le piccole cose ad esempio dei quartieri romani che raccontano la storia che altrimenti tu non avresti notato perché non sapevi neppure che esiste che esistesse in questo senso la storia è come se fosse una piccola lente di ingrandimento posata su uno spicchio ben preciso di mondo roma e ti fa vedere che cosa nella realtà di un quartiere o dei quartieri romani accadeva mentre attorno nel mondo si verificava quello che noi chiamiamo seconda guerra mondiale senza sapere però cosa accadeva strada per strada è una tronaca formidabile che racconta un'epoca in maniera piuttosto memorabile non lo dimentichi più il quartiere di san lorenzo o testaccio dopo aver letto la storia ma che nel frattempo tira un lunghissimo filo fino a 10 mila anni fa per raccontare che cosa succede alle vittime di questa storia quando finiscono nei suoi ingranaggi quali sono le paure quali sono però gli istinti tra cui l'istinto alla fame e la sopravvivenza ma anche all'allegria che è quella di nino possono esserci utili per non farci schiacciare